Rito immediato per padre Graziano. È questa la richiesta depositata dal PM Marco Dioni e dal procuratore capo Roberto Rossi, contitolare del fascicolo sulla scomparsa di Guerrina Piscaia. Spetterà adesso al GIP Pier Giorgio Ponticelli decidere se il religioso, accusato di omicidio volontario, occultamento e distruzione di cadavere, debba andare subito a giudizio. La richiesta del rito immediato cautelare può essere fatta nel caso in cui gli imputati siano in stato di detenzione o sussista l'evidenza della prova. Se il giudice deciderà di andare a processo, fisserà l'udienza della Corte d'Assise, presumibilmente nel giro di un paio di mesi. Dopodiché la parola passerà alla difesa, che potrà accettare il processo pubblico davanti ai giudici popolari oppure chiedere il rito abbreviato dinanzi al GIP, con uno sconto di un terzo della pena in caso di condanna. Padre Graziano potrebbe rischiare in Assise una pena dai 21 ai 24 anni per l'omicidio e quali potrebbero sommarsi dai 2 ai 7 anni per la distruzione di cadavere. Intanto il frate congolese è ancora detenuto nel carcere arettino di San Benedetto in attesa che venga presentata dal suo legale, Francesco Zaccheo, l'istanza di scarcerazione. Stralciata è invece dalla procura di Arezzo la posizione del marito di Guerrina Piscaia, Mirko Alessandrini, iscritto nel registro degli indagati per false dichiarazioni. La posizione dell'uomo si avvia quindi verso la completa archiviazione. È stata fatta la richiesta dal dottor Dioni di giudizio immediato, di conseguenza noi in quel processo, a prescindere dalla scelta processuale che farà Zaccheo e Alabi, noi ci costituiremo parte civile. Lo stralcio era un atto dovuto, quindi quantomeno è una conferma, diciamo, che Mirko Alessandrini è assolutamente straneo alla scomparsa e formalmente anche all'omicidio, che è quello che contesta la procura, di Guerrina Piscaia. Questa notizia un po' l'ha sollevato perché dalle ultime dichiarazioni che venivano fatte anche non tanto dalla difesa di Alabi ma dai diplomatici amici di Alabi puntavano il dito contro Mirko Alessandrini e quindi lui era preoccupato di queste accuse. Ad oggi credo che queste accuse non devono essere più fatte, neanche televisivamente oppure nei giornali. Intanto a Caraffello è arrivata la nota criminologa Roberta Abruzzone, nominata come consulente dai legali di Mirko, con il suo team di esperti forensi che si è servito della nuova tecnologia dello Sky Hunter, strumento in grado di effettuare rilevamenti sofisticati sul traffico telefonico. Abbiamo fatto una mappatura completa di tutte le risposte radioerettriche che cogliono la zona, da Caraffello fino a Sestina a Bresciano, abbiamo percorso queste zone con lo Sky Hunter e abbiamo ottenuto tutti i dati che ci interessavano che poi caleremo chiaramente sui tabulati telefonici che a breve c'erano resi disponibili e completi. Il cellulare di Gurina Piscali avrà una serie di momenti di vitalità successivi alla scomparsa, quindi dovremo fare una mappatura, cioè ricalare questi dati della mappatura su queste informazioni che saranno però più ampie, non soltanto relativa al primo maggio, ma anche nei giorni successivi fino ad arrivare a luglio del 2014. Intanzitutto per collocare le utenze direttamente sul territorio in maniera precisa e a quel punto fare delle valutazioni investigative basate su dati estremamente precisi e affidabili. Mirko è estremamente attento a ogni passaggio di questa inchiesta e sicuramente vede in questo tipo di attività che noi stiamo comunque conducendo insieme all'Avvocato Pagiotto e all'Avvocato Detti chiaramente in favore di Mirko Alessandrini, che prossimamente si costituirà parte civile a quello che sarà il processo nei confronti di Paolo e Graziano e chiaramente lui intende offrire tutto il supporto possibile al lavoro della procura. Grazie.